Mi trovo al porticciolo di Pastena, notate cosa ha sempre la schiuma che c'è sull'acqua con un'inquadratura che riprende anche il polonautico ripresa precedentemente, in londananza non so se si nota, sempre la solita schiuma e i bagnanti che si fanno in bagno e notate per farsi largo il movimento che fanno. Grazie.